Ci siamo tutti? Contatevi! Bene, benvenuti a tutti, grazie di essere qui con noi. Sono sicura che passeremo un bellissimo pomeriggio insieme. Allora, innanzitutto ringrazio subito la dottoressa Alessandra Torre perché ci ospita, ci ha ospitato in questo bellissimo posto e ci ha dato a disposizione un bravissimo... Damiano Cavallari che è il tecnico delle luci e di tutto quello che c'è di tecnologico in questa sala e oltre. Ok, poi volevo ringraziare l'istituto Vittadini nella persona della dottoressa Daniela Gatti che ci ha offerto, lei ci ha offerto, Amir Nasari che è il nostro violinista. Il nostro sindaco che è appena arrivato, il professor De Paoli, grazie, vi faccio in compagnia. E l'assessore della cultura, Giacomo Galazzo. Allora, il professor Dario Codegoni che è preside del liceo Ugo Foscolo perché poi vedrete, è proiettata, ci ha dato la copia della pagella di Einstein. E' curioso. Robert Einstein. Ok, va bene. Andiamo a curiosare in com'era lui a scuola. Benissimo, allora mi presento, Giuliana Giardini, sono socio lettore e ultimamente anche presidente ADOV. ADOV, che cos'è? È un'associazione volontariato. Noi registriamo, si è trovato sulle sedie e la brochure. Prima di uscire sul tavolinetto là fuori ce ne sono delle altre. Vi chiedo di prendere su un'altra, portatela a casa, la date a un amico, leggetela. E a questo punto vi dico, siate curiosi, siate curiosi, siate curiosi e telefonate, informatevi di quello. Venite a vedere cosa facciamo e soprattutto come lo facciamo. E se la cosa proprio vi intriga e vi piace, vi appassiona, mi permetto un suggerimento. Non aspettate di avere tempo per trovare il tempo. Sembra un gioco di parole, ma pensate, c'è vero. A noi, anche mezz'ora al giorno e neanche tutti i giorni, questo è un grande aiuto per tutti i nostri utenti non vedenti. Buon ascolto. Il personaggio di Lorenza Mazzetti meriti una presentazione perché è un personaggio poliedrico, molto complesso, ma affascinante. Bene. Pierino si voltò verso di noi e disse che Satana non era ancora morto, ma che era salito in cielo e che era rimasto con le mani aggrappate al cielo e che stava per precipitare giù portando con sé un pezzo di cielo. Ho scelto queste poche righe tratte da uno degli ultimi capitoli del cielo cade perché ci riportano al titolo suggestivo del libro e alla particolare tonalità della narrazione di Lorenza Mazzetti, Penny nel racconto, e alla sua capacità di sdoppiarsi riuscendo a cancellare l'io adulto e facendo emergere solo l'io bambino. E Pierino, Zeffirino, Pasquetta, Penny, Benny, ma nella realtà tutto è diverso. Satana arriverà il 3 agosto 1944 quando un gruppo di tedeschi mai ben identificati irromperà a Rignano-sull'Arno, Firenze, nella villa Il Focardo dello zio Robert Einstein, cugino primo di Albert Einstein, e non trovandolo sfogherà l'antisemitismo feroce, uccidendo barbaramente la moglie Nina e le due figlie, Anna Maria e Luce, davanti agli occhi inorriditi delle due bambine, Mazzetti. Lo zio, in seguito alla tragedia, stroncato dal dolore, si suiciderà poco tempo dopo. Sembra lontano il periodo in cui Penny e Baby, la gemella Paola, entrambe orfane, avevano ritrovato la loro serenità e allegria nella villa Il Focardo, grazie alle amorevoli cure della zia paterna, zia Ketchen, moglie dello zio Wilhelm, a loro volta, piena di entusiasmo, scrive in pochissimo tempo, quasi di getto, il cielo cade. Il manoscritto, rifiutato dalle più importanti case editrici, suscita l'entusiasmo di Cesare Zavattini, che annuncia a Lorenza di averlo inviato ad Attilio Bertolucci, poeta, padre del regista Bernardo, allora lettore per la Garzanti. Quest'ultimo, trovandolo un breve capolavoro, lo pubblica immediatamente, lo spedisce al premio Viareggio, dove il libro vince il primo premio, opera prima, 1962. Nel 1992, il libro passa alla casa editrice Sellerio, nel settore La Memoria. Elvira Sellerio, alla quale Lorenza aveva confidato che il cielo cade, era veramente autobiografico, nonostante i nomi fittizi dei personaggi, prega la scrittrice di inserire una dedica a tutti i componenti della famiglia Einstein coinvolti nella strage. Il libro, a tutt'oggi, il 19, i registi Antonio e Andrea Pazzi, ispirandosi al libro, girano un film da titolo omonimo. Sceneggiato da Suso Cecchi D'Amico, protagonista Isabella Rossellini, vince nel 2000 il premio Giffoni Festival. Concludendo, noi come Adolf Pavese desideriamo sottolineare che la presenza a Pavia di Robert Einstein, con la sua famiglia tra gli anni 1894-1896, è confermata naturalmente anche da Lorenza Mazzetti in una di Lascalia a un suo dipinto. Ma soprattutto, con le nostre letture, dedicando la giornata della memoria a queste quattro vittime innocenti della persecuzione nazista, vogliamo risvegliarne il ricordo e mantenerlo vivo, con la speranza anche che gli studi degli storici continuino e servano a fare piena luce su questo trucefatto di sangue non ancora chiarito del tutto. Grazie. Pensierino, raccontate che cosa avete fatto oggi. Svolgimento Oggi a scuola il duce ha parlato e ci ha detto di fare la ginnastica per diventare forti, educati e pronti ad una sua chiamata per difendere la nostra grande Italia perché c'è la guerra. Io mi domando se posso amare mia sorella Baby più del duce. Ma io però amo Baby come Gesù, proprio come Gesù e amo Gesù un po' più di Dio e Dio come Mussolini e l'Italia e la patria meno di Dio ma più del mio orso giallo. molto tempo. Ci ha portato e su lo chauffeur nella grande De Soto che ha una macchina tutta di velluto dentro. Lo chauffeur dello zio Wilhelm ha i bottoni d'oro e il cappello e le basette e si chiama Cosimo e fa anche il cameriere alla villa. A me e Baby Cosimo mette soggezione quasi quanto lo zio. Io e Baby non avevamo mai visto lo zio. Ce ne parlava papà ma ora papà non c'è più. La mamma neppure. Sono in cielo. Di lassù guardano giù per vedere se io e Baby siamo buone, obbedienti e rispettose come loro vogliono. Certo, da quando mamma e papà sono andati su nel cielo nessuno ci abbraccia più la sera prima di andare a dormire e la mattina quando ci svegliamo. Questo fino a che loro non tornano giù dal cielo. Non so bene quando però. Io e Baby quando siamo arrivate per la prima volta quassù abbiamo fatto l'inchino alla zia Ketchen, la sorella di papà che ci ha abbracciate e anche Marie. Annie invece è gelosa del nostro arrivo. Dopo un camion arrivò da cui scesero una ventina di soldati. Heinz disse Baby ma poi si accorse che erano vestiti diversamente da Heinz. Avevano un cappello fregiato e parevano tutti ufficiali. Hauk, 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 Hauk dissero due soldati sollevandoci di peso. Lasciami disse Baby divincolandosi. Hauk, 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 Hauk disse il soldato stringendola forte mentre cercava di sgusciargli dalle mani. Ai, mi fai male dissi a quello che mi riacchiappò per il vestito strappandolo. Hauk, Hauk, Hauk strillò. Guarda cosa mi hai fatto dissi io mostrandogli il vestito strappato. Ma quello rimasto un momento perplesso mi riprese e diede un calcio ai dadi con cui giocavamo facendo male alle mani di Baby che si mise a urlare. Hauk, 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 Hauk disse un altro soldato acchiappando Baby. Lasciate stare la mia sorellina subito se no lo vado a dire al comandante. vidi venire Marie, Annie e Ketchen spinte su per lo scalone dai soldati che tenevano il mitra appuntato. Marie, Ketchen ci spingevano su per lo scalone della villa. Ci chiusero dentro una stanza e lasciarono una sentinella dentro. Guarda cosa gli avete fatto al mio trotro disse Baby accarizzando l'orso giallo che aveva raccolto da terra con il muso pestato. gli avete tolto un occhio e gli fece una boccaccia. Ketchen chiamò Baby a sé stai buona le disse. Poco dopo un ufficiale entrò e domandò dove era lo zio. Non avendo una risposta esatta uscì dalla stanza. Poi l'ufficiale tornò e sorrise e disse di nuovo che era una formalità poi mandò a chiamare prima Ketchen poi un soldato entrò e chiamò Marie dopo un po' ritornò e chiamò Annie. Anch'io disse Baby anche noi dissi. Loro due no non sono ebrei e la sentinella non le fece uscire. Si udì un colpo di mitra e un urlo poi un altro colpo di mitra e un altro urlo e un altro colpo ancora. io e Baby ci precipitavamo giù per lo scalone gridando Marie Katie Annie i soldati venivano su per lo scalone la porta della sala degli specchi era aperta era rossa illuminata da una torcia mi parve di scorgere i loro piedi per terra. Il comandante si era parato davanti alla porta impedendoci di entrare. Ci spinsero fuori a me e Baby i contadini ci presero in braccio allontanandosi nel buio della villa mi voltai e vidi le fiamme di vampare e tutta la villa prendere fuoco di colpo i contadini tutti ammassati sul colle guardavano la villa bruciare ci tenevano in braccio Baby nelle braccia del fattore io in quelle di Pippone dei tedeschi che si allontanava lo zio era ancora con noi zio Willem zio Willem gridava Baby abbracciandolo e baciandolo e anche io ma lui gridava che voleva una pistola supplicava che voleva una pistola per morire ma gli uomini armati con le barbe lunghe non gliela volevano dare e allora ho visto lo zio piangere come un bambino ma perché non volete dare la pistola allo zio urlai dammi la pistola diceva Baby a un uomo con la barba picchiandolo con i pugni cattive volete uccidere lo zio urlò uno chinandosi verso di noi io no io non voglio uccidere lo zio Baby si mise a piangere e anche io e ci mettemmo ad abbracciare lo zio che stava per terra seduto e ci stringeva a sé continuando a chiedere una pistola e guardando le fiamme che divampavano e ci illuminavano tutti come giorno siamo rimaste così io e Baby per ore e ore a guardare la villa che bruciava vicino allo zio Wilhelm lasciatemi solo lasciatemi solo disse ai contadini che si sono allontanati piano piano gli uomini armati sono partiti su una macchina dicendo che volevano raggiungere i tedeschi per ammazzarli hanno lasciato uno di loro a guardia dello zio vada a lui gli ha gridato il capo Baby misse una mano sugli occhi dello zio affinché non guardasse ma lo zio tremava e continuava a guardare le fiamme non piangere diceva Baby e lo abbracciava no diceva lo zio vedi non piango più Baby si addormentò con la testa sulle ginocchia dello zio e anche io con la testa appoggiata a lui che guardava la villa con la testa Il prete depose a terra Bebi e disse, i buoi sono attaccati. Sì padre, disse Peppone. Andiamo. Dove? Al cimitero, a seppellirli. Anche il padrone? Sì, anche il padrone. Il prete fece mettere le casse sul carro, ma i contadini si rifiutarono di seppellire lo zio nel cimitero. Allora il prete si avviò solo guidando il carro di buoi giù per la collina. Il prete era già sparito dietro la curva e già non si vedeva più. Quando Peppone si mosse e tutti gli uomini scesero giù al cimitero e le donne pure con Bebi in braccio. Il prete pregava. Bebi gli si avvicinò. Androldia, Cicci e Luce, Einstein. Tutti loro dormono nel cimitero della Badiuzza, sopra Firenze, tra San Donato in collina e Rignano sull'Arno. Sulla loro tomba c'è scritto, trucidate dai tedeschi, il 3 agosto 1944. Io e la mia sorella che stavamo alla villa fin da piccole, perché la nostra mamma era morta, siamo state risparmiate dalle SS perché non ci chiamavamo Einstein, ma Mazzetti. Così abbiamo diviso le gioie della vita e ricevuto il loro affetto per anni, ma al momento della morte siamo state separate da loro. Questa vita mi è stata regalata solo perché ero di un'altra razza. Tutti i sopravvissuti portano con loro il peso di questo privilegio ed il bisogno di testimoniare. Questo libro vuole descrivere la gioia e l'allegria che quella famiglia mi ha dato nella mia infanzia, accogliendomi come uguale, mentre sono stata uguale a loro nella gioia e diversa al momento della morte. Loro dormono lì, sulla collina, e io li ricordo. Se qualcuno passa di lì, lasci un fiore. Roma, maggio 1993 Allora, la Presidente Giuliano, grazie a tutti i nostri preziosi collaboratori, per le posizioni medie. Il nostro violinista, Amir Degsiani. Degsiani. Le due bravissime valentine. Dai, professore. Dai. Claudia. Claudia. E Maria. E Maria. Vi è venuta voglia di farci compagnia? Non vuoi voglia, no? Di leggere insieme. È bello. Vi aspettiamo, eh? Vieni a vedere. Vieni a vedere.